iscriviti al canale per un divertimento senza fine benvenuti allo speciale di halloween del nostro talent show diamo il benvenuto a nila e alla sua esibizione di yoga ciao grazie nila ci vediamo in finale straordinariamente rilassante misterioso ma pacifico da belle doc mi ringrazio vai congratulazioni è fantastico sei riuscita ad arrivare in finale namaste ragazze ragazza sei stata grande io credo che sverrò sembra che tu abbia visto un fantasma nila andiamo ragazze facciamole un po di aria ma l'avete visto jp mi ha appena fatto l'occhiolino ciao siamo cagnoline molto cool amiamo le acconciature insieme vivremo mille avventure la cotta di nila la miglior musica per halloween è il pop scaccia tutte le paure no non è vero la musica disco è molto meglio andiamo non ricominciate allora senti le farfalle cosa ho capito cosa sta accadendo qui qualcuno si è innamorato di jamie ma no non è vero lo stai dicendo soltanto perché ho tutti i suoi dischi sono andata a tutti i suoi concerti e ho tutta la casa tapezzata con i suoi poster beh credo anche che sia perché tu sei svenuta quando ti ha fatto l'occhiolino buon halloween ma non ha senso ecco forse io ok lo amo tanto sarà meglio che tu non svenga anche durante la finale tu credi possa accadere stanotte ci sarà il party di chiusura del talent show e fabio non è passato a prendere il suo costume perché non lo chiami allora hai idea di quante volte l'abbia fatto non risponde mai e ovviamente io ho mandato un sacco di messaggi ma non risponde neanche a quelli magari sta lavorando in un salone per gattine non può rispondere io non lo so ma una cosa è sicura riempirò il suo telefono con vampiri e teschi così mi presterà attenzione è halloween sono stata sempre una cagnolina tranquilla ma ora sono agitatissima a causa di jb non preoccuparti troppo ma vip ezz la finale tra poche ore dobbiamo trovare un modo per aiutarla vediamo dai pensiamo quando tocca a me io visualizzo sempre i giudici nei modi più stravaganti e questo mi rilassa molto ho trovato potresti immaginare jb con un naso da clown o con un cappello divertente o un cupcake jb buona idea anzi no non funziona con me gli unici che ci possono aiutare sono fabio e fabia alla buon ora nila si esibirà stanotte e ha bisogno di un'acconciatura nessun problema sarò lì in cinque minuti lo prometto ciao ragazze sono qui tu avevi detto cinque minuti ed è passata un'ora che cosa stavi facendo io ero ecco ero impegnato a fare alcune cose di quali cose parli oh nila mi sembri triste che cosa è successo io amo jb soltanto un pochino e quando lo vedo divento così nervosa che svengo non aggiungere altro quello di cui hai bisogno è un che aumenti la fiducia in te stessa confident style ma ti sei vista tu sei venuta al mondo per essere una star addirittura più grande jb ma ricorda le persone famose sono normali come lo siamo tu e io nessuno è migliore o peggiore è solo per la sua fama questo look color boost mi ha ridato fiducia in me stessa è ora di prepararsi per lo show di stasera grazie bene adesso me ne vado perché devo assolutamente finire delle cose di nuovo stasera c'è la festa con tutti i vincitori tranquilla ci sarò tra tutti il costume più spaventoso la donna pantera neanche per idea il più terrificante tra i costumi esistenti è quello da dentista perché i dentisti sono veri no per me il costume più pauroso il vostro non mollate mai ciao a tutti benvenuti al miglior talent show del mondo e adesso diamo un caloroso benvenuto a nila la nostra artista yoga silenzio silenzio wow davvero zen mi ricorda molto un fiore di loto non sembra che possa levitare da un momento all'altro wow incredibile trasmette grande pace e armonia hai proprio ragione mi sento così rilassata ora l'adoro sappiate che già fatto la mia scelta wow che posizioni una performance imbattibile brava nila sei la vincitrice della categoria namaste che gran stile nila l'avete visto anche voi mi ha fatto l'occhiolino sul serio nila è la migliore congratulazioni nila il tuo occhiolino è virale eri così rilassata e che posizioni sei elastica come la gomma namaste amiche posso avere il tuo autografo ti prego ti prego nila e le sue amiche le vip pezzi seguono i loro sogni non hanno mai mollato e perciò hanno avuto tantissimo successo nel nostro talent show ma cosa più importante sono rimaste loro stesse bravissime ragazze adesso mi avete spaventata voi tu credi che arriverà in orario sono sicura di sì l'uzio non ha mai perso una festa di halloween ciao a tutti ecco a voi la salone mobile ora che le vip pezzi sono famose dovranno partecipare a moltissimi eventi quindi perché non andare in torne insieme ma è davvero bellissimo lo devo condividere adesso ho capito ecco perché eri così impegnato zio già volevo farvi una sorpresona tu sei lo zio migliore del mondo ok ok il potina preferita ma non stringermi così forte attenta ai capelli ciao siamo cagnoline molto cool amiamo le acconciature insieme vivremo mille avventure la festa di halloween arriva halloween mi piace vado a comprare altre cose ciao zio zio mamma mia sparisce sempre delle zucche beh dovrò scoprire da sola la nostra vip pe di oggi sono troppo curiosa è Lady Gigi che colori fantastici sai cosa Lady Gigi credo che queste zucche siano molto mature e andranno a male tu che cosa faresti oh ma certo marmellata di zucca oila zio il salone spaventoso mancano solo le mie zucche tre zucche che dovevo svuotare e poi decorare ne sai qualcosa ops non ne ho idea le troverai e lo spero perché ora sono finite in tutta la città e devo terminare le decorazioni però adesso facciamo il look a Lady Gigi oggi ha una festa di halloween e mi ha chiesto di farle il look shopping style te lo ricordi zio certo questo look è l'ideale per giornate come queste bene però tu hai visto le mie zucche l'importante è che Lady Gigi esca da qui con un look perfetto e per questo avremo bisogno di un pettine un elastico questo accessorio che ci aiuterà a raccogliere i capelli il suo tubetto di glitter il diadema e ovviamente il suo collare iniziamo come già sapete prima la pettiniamo per poter lavorare molto meglio continuiamo prendendo due ciocche laterali unendole al centro e facendone una coda con l'elastico una volta terminata la coda prendiamo questo accessorio che ci aiuterà a fare un raccolto molto bello vedrete prendiamo il codino lo infiliamo nel centro e una volta fatto potremo tirare l'accessorio in questo modo adesso prendiamo il suo glitter e lo mettiamo su tutti i capelli come preferiamo così per avere un look brillante adesso io zio questa è la mia parte preferita prendiamo il suo diadema e glielo mettiamo e per ultimo il suo collare certo è venuta stupenda facciamo la foto così in rete la vedrà tutto il mondo e aggiungi anche un messaggio magari qualcuno ha visto le zucche zio ti devo dire una cosa in realtà le tue zucche le ho prese io ah non ha importanza ti perdono dove sono stai con lady un momentino marmellata hai fatto la marmellata perdonami zio non sapevo avresti usato le zucche per decorare e io volevo farti un regalo scusami niente tranquilla mi piace la marmellata di zucca e poi ho un'idea con questa marmellata faremo qualcosa che ci invideranno tutti così alla fine abbiamo la marmellata e anche le zucche e la torta e non mi avevi detto che la festa di lady gigi era la nostra era una sorpresa però adesso io ho una fame e non dimentichi nulla certo ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e mettere like al video se vi è piaciuto alla prossima vipets friends che sarà molto presto ne avevi di fame è non sta paura inizia l'avventura i love it best